Buonasera, qui Rene Catarella, siamo sotto il carro di Gesù Nazareno per la famosa chianata. Siamo a San Giovanni Gemini, in provincia del Grigento. E qui c'è parte del comitato, parte del comitato che sta alle corde, che sta sotto il carro. Allora vogliamo sapere un po' qualcosa, però prima di ogni cosa dobbiamo far vivere il signor Traina, viva Gesù Nazareno! E viva Gesù Nazareno! Questa è la nostra caratteristica che accomuna tutti noi. Allora, prima di tutto, Maria Teresa e Carmela, voi avete un'esperienza delle corde, diteci qualcosa. Che vuol dire stare alle corde? Quella che noi sinceramente gestiamo è la corda di sicurezza. Cerchiamo di tutelare il resto del comitato che è impegnato nelle manovre per far salire e scendere il carro, nella massima sicurezza, perché come guardate, come vedete, le dimensioni delle ruote non sono piccoline. Quindi cerchiamo di tutelare la gente il più possibile e permettere al comitato di lavorare nella massima sicurezza. E c'è un altro gridatore, un altro grido, forza! A gravo tutti! E viva Gesù Nazareno! A mia Maria! E viva Gesù Nazareno! E viva Gesù Nazareno! E viva Gesù Nazareno! Allora invece il signor Giamprone, il signor Capitano. Venite e fatevi bene, signor Barbanzio, fatevi bene! Qua, quasi, quasi, quasi. Buonasera, qui vogliamo sapere qualcosa del carro. Che significa stare al timone, che significa stare alle ruote? Porta, significa fele. Allora? Fele, coraggio e intelligenza. Tre cose fondamentali. E poi anche forza e forza. Perfetto. Cambiamo il nostro costruttore, il nostro costruttore, Carmelo Zena. Allora Carmelo, dici un po' questo carro, come lo cominciamo? La caratteristica che ti fa e che ti fa? Sì, si fa, buonasera a tutti. Allora, il carro si fa ogni anno. Ogni anno viene montato e smontrato pezzo per pezzo. Una nostra caratteristica di questa testa che dura ormai da tantissimi anni. ed è un onore per noi essere e mantenere questa tradizione per tutti i san giovanese. Siamo onorati di migliorare la tradizione e speriamo di fare sempre bene. Diciamo che dal 1840, quando l'ha fatto il maestro Petit, ne sono passati di tempo, e noi abbiamo sempre più migliorato questa cosa. E sui drampi che ci dici? C'è la novità quest'anno delle scale con Gesù Nazareno? Sì, abbiamo fatto il battesimo di Gesù con San Giovanni e dall'altro lato la Sacra Famiglia. Abbiamo ritenuto opportuno che comunque era qualcosa che si addiceva tantissimo al carro e al nostro maestro. Poi mi hanno detto che c'è una leggenda sulle ruote, vero? Che a seconda se uno tocca una ruota si fa una cosa o un'altra, è vero o no che c'è una leggenda. Ve la dico io. La leggenda è che se si tocca la ruota anteriore, quella di davanti, dai pelliteri, dice che uno si marita. Ma vedremo questo, non lo sappiamo. E comunque siamo pronti per l'acchianata, Maria Teresa... E allora gridiamo tutti... E gridiamo tutti!